questo qua questo posto l'abbiamo fatto e la seconda volta l'abbiamo tutta l'abbiamo venduta qui siete anche civili aspetta vedi tutti i nomi Lisa e Mimmo perfetto quindi voi avete comprato con noi avete venduto con noi è stata una bella parentesi bene perché abbandonate comunque un posto che vi piace cioè vi piace non è che era bellissima il posto era bello però la vita porta altre scelte vabbè però lo fate solo per migliorare quindi stare più comodi dalla situazione che si è messa finita di lavorare non ha più senso rimanere migliori abbiamo dei figli bene quindi che voto diamo all'operazione all'operazione come l'hai condotta insieme a simonetta 10 perché da come eravamo partiti a come siamo arrivati consiglio consiglio a tutti bravi no no è stata proprio una cosa non avevamo dubbi eh perché se no non avevamo dubbi abbiamo detto recidivi no quindi siete tornati da noi ci siete ricascati bene io siccome sapevo che voi oggi venivate a salutarci perché voi partite questo è un regalino sì perché vi facciamo tanti auguri per il trasloco ecco io un piccolo portafortuna perché ci piaceva insomma è un augurio per la casa nuova però se venite a trovare mi veniamo a trovare come ciao ciao